squadra in ritiro fino a lunedì a bisceglie niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico delle rossi testa bassa e pedalare isolandosi da ogni tipo di distrazione in casa foggia smaltita la rabbia e la delusione non si vuole lasciare nulla di intentato si prove insomma a credere nella rimonta complicata difficilissima ma non per questo impossibile ieri nel quartier generale di bisceglie il presidente canonico ha voluto parlare con squadra e allenatore radunando peraltro tutto lo staff dirigenziale l'impresa insomma può essere ancora compiuta e perlomeno il foggia vuole provarci per non avere alcun rimpianto proprio il presidente rosso nero stigmatizzando l'aggressione subita dal pullman della squadra al rientro dal monterisi ha inteso chiamare a raccolta i tifosi stamane è partita la prevendita dei tagliandi la gara così come scontato non sarà aperta ai residenti a cerignola allo zaccheria ci sarà posto insomma solo per cuori rossoneri proprio il foggia approvato nel tentativo di riempire lo stadio di praticare prezzi popolari un euro in curva e gradinata ma a quanto pare la cosa non è stata fattibile ed ha dovuto rinunciare tuttavia il club ha inteso praticare gli stessi prezzi in curva in tribuna est dove sarà possibile accedere con un tagliando che ha un costo di 10 euro alle difficoltà di un risultato pesante e complicato da ribaltare delle rossi aggiunge anche un'infermeria che registra il pieno della contesa non sarà certamente garattoni ancora da verificare l'entità degli infortuni muscolari rimediati da ogunseie e oger è tornato a disposizione invece vacca come detto squadra bisceglie fino a lunedì raggiungerà foggia solo poche ore prima della partita raggiungerà foggia solo poche ore prima della partita